No Con le convenzioni? No, anche. Ma che diante? Cosa c'è tra i patroni? Con le convenzioni? Ma fai troppo. Ma andami se vuole, per favore. Quante volte non avevo di altro? Su, a poi. Gentili passeggeri, per il rispetto delle norme in vigore è obbligatorio indossare una mascherina anche di stoffa per la protezione del naso della punta per rispettare il distanziamento sociale si ricorda che la distanza vada necessaria nel caso si tratta di persone che vivono nella stessa unità abitativa tra l'Italia vi augura un buon viaggio. No, non è che la proposta. Questa è 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 un'altra cosa. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.